Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo filmato Cosa mangiare un giorno e partiamo come sempre dalla colazione Per colazione una super colazione oserei dire La tazza di tè immancabile con vicino la mia fantastica sbrisolona con cioccolato Mi capita ogni tanto di farla Qui era a metà ma vi faccio vedere una volta che era per intera Quanta è buona, io amo all'alternativa della crostata e la sbrisolona da morire Per pranzo un uovo soto e un cavolfiore condito all'agro Se non è vero in questa giornata specifica non ho fatto merenda, non ho bevuto di sale e non ne avevo voglia A volte capita, passiamo direttamente alla cena Per cena mia mamma ha fatto questo pollo alla cacciatura Quindi olive, cappri, alicetti, pomodoro, piccantino, uno spettacolo Signori miei in ascolto, già siamo arrivati al post cena Per post cena ho bevuto una delle mie tisanine, in questo caso un tè Perché sapete io dormo come un giro, non ho problemi a dormire anche se prendo il tè E questo mamma mia, da quando è uscito ogni volta ve lo dico è una fissa È buonissimo Ci vediamo domani 20 e 30 con un nuovo video Ciao